Nel recupero della gara contro la Pro Patria, il Como torna a vincere. Lo fa sul terreno casalingo del Sinigallia dopo il lungo periodo segnato dalla preoccupazione per i contagi da Covid-19. I ragazzi di mister Marco Banchini, reduci da una sconfitta interna contro la Pro Vercelli, oggi hanno superato gli avversari per 1-0 e hanno conquistato così tre punti importanti grazie al gol al 54esimo di Solini. Il Como oggi pomeriggio è sceso in campo per rifarsi a seguito appunto del K.O. di domenica scorsa e sin da subito ha cercato di mettere in campo grinta e determinazione. Dal canto loro gli avversari hanno faticato ad imporsi, la rete è decisiva, è arrivata però soltanto nel secondo tempo, come detto, con Solini. Una bella azione personale del difensore che dopo una serie di dribbling nell'area avversaria ha insaccato con un preciso rasoterra. I lariani sono ora al settimo posto in classifica, quota 16 punti nel girone A della Serie C alla pari con il Pontedera. La prossima sfida è in programma per domenica alle 15 in trasferta a Gorgonzola contro l'Albino Leffe. Negli altri recuperi pari 0-0 tra Olbia e Lucchese e secca vittoria della Pro Vercelli per 4-0 con la Gianna Erminio. Pro Vercelli ora in testa alla classifica con 23 punti davanti a Renate a quota 22. Grazie a tutti! Grazie a tutti!